Alessandro Farci. Purtroppo 58. Sono di Genoa in Sardegna, problemi innanzitutto masticazione. Già iniziavo a masticare male anche se esteticamente non erano ancora male e quindi ho pensato che tanto prima o poi dovevo fare questo lavoro. Il mio percorso è quando ho deciso di... diciamo che ho guardato i video su Facebook. Il lavoro mi sono trovato benissimo nel senso che già dal insomma essendo comunque la prima volta sono mi sono convinto subito appena appena vi ho visto mi sono trovato già subito bene. Il mio chirurgo è il mio impiantista molto molto bravi molto disponibili molto simpatici anche oltre all'assistente molto 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 brava, professionale, come tutti del resto.